ecco qua questo vecchissimo trattore vediamo un po se funziona è fermo quasi da due anni ho cambiato la batteria adesso vediamo se riesco a farlo funzionare un po di gasolio ok vedete che c'è le candelette questa barchina allora saldiamo le candelette questo dovrebbe essere per farlo partire questo è stato un po di gasolio Grazie a tutti. 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 Dovrebbe essere del 1954. Sembrava in buone condizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok.